Il progetto per un amicizia tra Italia e Giappone Al Quirinale visita al presidente Einaudi, donna Ida fa gli onori di casa E ospite dell'Italia anche la figlia del ministro Visita ad omaggio al milite ignotro Una corona da loro sale ai radini dell'altare della patria Devoto omaggio dell'ospite all'eroe di un paese amico Che offre le sue forze alla difesa della democrazia e della pace